con giuliano olivati vicepresidente fiap è delegato alla comunicazione social media appunto proprio sulla comunicazione verso che direzione va la comunicazione della federazione la federazione utilizza il sito fiap punto iti come contenitore principale e unico contenitore di tutte le nostre iniziative sia a livello centrale nazionale che regionale e provinciale con tutti i contributi dei territori che arricchiscono l'iniziativa di fiap da ormai diversi anni e segnatamente con un impulso dal 2017 quando ho cominciato a occuparmi io della comunicazione dei social siamo presenti su tutti i social anche sul canale telegram fiap e su youtube per questo cercate fiap ci trovate e questo perché abbiamo visto che un numero sempre crescente di persone in america addirittura il 65 per cento in italia probabilmente ci avviciniamo gradualmente a questa percentuale che cosa fanno cercano informazioni soltanto sui social per fare prima per velocità noi veicoliamo i link vogliamo sempre preferiamo che vadano sul nostro sito a leggere gli approfondimenti ma per chi non ha il tempo comunque mettiamo nel nostro post social una foto un video di grande richiamo e poi un cappello introduttivo che dia quello che la vecchia impostazione giornalistica era il titolo con il sottotitolo e il catenaccio e quindi per dare la sintesi quindi anche solo chi guarda i nostri post sa che cosa fa la federazione a tutti i livelli noi siamo presenti capillarmente su tutti i territori provinciali e questa ricchezza noi vogliamo portare appunto nella comunicazione come è cambiata la comunicazione dall'inizio e nel corso degli anni abbiamo visto abbiamo assistito la transizione dai media cartacei a quelli digitali e appunto la transizione dai siti ai social che hanno un'importanza sempre maggiore abbiamo visto il can can che c'è stato con l'acquisizione di twitter da parte di lo masch ma perché perché effettivamente questi reti sociali muovono l'informazione e oggi chi vuole fare informazione non ne può prescindere gli stessi giornalisti vanno in quella direzione